Amo sei pronto? Mamma mia questo quanto ci mette per prepararsi? Ma ti sei preparato? Ma guarda che maligetta che buona! Ma che c'è? Mamma mia! Ma il sorzetto di vino ci sta? Tiè, 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 faccio pure il tuo potere, tiè, beccale questo, tiè! Ma le buie se ti vuol dire! Ma pure Mary tiene? No dai! Ma non vedi come si... E che è? Se vengo così, se sta bene a mia moglie, sta bene a tutti quanti eh! Ma che stai facendo? Ma sono pieni! Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Oddio! Oddio mio!